Crack BPV, otto rinvia giudizio per l'ex presidente Gianni Zonin, per altri sei ex dirigenti della Popolare di Vicenza, indacati per aggiotaggio, ostacolo all'attività di vigilanza e falso in prospetto, e per l'ex istituto di credito che deve rispondere di aggiotaggio e ostacolo all'attività di vigilanza. Il fascicolo verrà portato mercoledì a Roma alla Commissione di inchiesta parlamentare, unico scopo. Certificare che sia per Popolare di Vicenza che per Veneto Banca i 205.000 ex soci trasformati in azionisti sono vittime di un reato da truffa colossale di massa. Patrizio Viatello, da sempre in prima linea in questa battaglia per proteggere i tutelari e i risparmiatori che hanno perso, per colpe non loro, tutti i soldi accantonati in una vita di lavoro, indica agli azionisti gabbati una precisa strada da seguire. È importantissimo fare l'insinuazione al passivo, sia chi ha transato e chi non ha transato. Fate l'insinuazione al passivo perché il governo deve intervenire per tutelare le vittime di questa colossale truffa.